L'emergenza sanitaria, che in questo momento continua a generare difficoltà e soprattutto morte, comporterà delle conseguenze da un punto di vista economico, ma in realtà le sta già generando e le imprese si trovano in difficoltà. Il governo ha varato il decreto Cura Italia, ma è una vera e propria lotta contro il tempo e con Fabi Calabria lancia le sue proposte. C'è un nemico insidioso che si chiama burocrazia. Il tempo non è una variabile indipendente. Le misure vanno rese subito fruibili per imprese e lavoratori. La potenza di fuoco sviluppata e annunciata dalle banche centrali deve trasformarsi in misure immediatamente applicabili, con regole semplici, chiare e veloci. Cosa propone con Fabi Calabria? L'anticipazione da parte delle banche dei trattamenti di cassa integrazione e guadagni straordinari, anche in deroga, a favore di tutti i lavoratori, come è stato già fatto in passato in accordo con l'UBI, l'Unione bancaria. In questo modo i nostri collaboratori sarebbero pagati ogni fine mese e non dovrebbero attendere i tempi decisamente più lunghi della burocrazia di Regione ed Imbis. Seconda proposta, ogni banca metta a disposizione un dodicesimo del fatturato del bilancio dell'anno precedente di tutte le imprese, più il costo del lavoro denunciato nel mese di febbraio all'Imbis. Quest'azione garantirebbe a tutte le imprese quella liquidità che permetterà non solo di affrontare l'oggi, ma soprattutto di pianificare il domani. Il nostro sistema del credito deve quindi giocare un ruolo di responsabilità molto importante, ancora di più di quanto è fatto nel passato. Per poter dire ce la faremo, bisogna anche costruire le condizioni per farcela davvero, altrimenti saranno parole vuote.